Dal momento che noi stiamo nascendo, siamo allo stato embrionale, vi presento una persona che è con noi da anni, ma nelle tv locali, adesso andiamo in tutto il mondo, si chiama Sergio Perla ed è il filosofo ruspante della nostra trasmissione. Sergio Perla, però, non ti ho mai fatto una domanda, come mai ti trovo sempre in campagna, tra le legne, nei greti dei fiumi, come mai questa tua scelta? Forse è un rifiuto ancestrale dell'evoluzione, perché la natura è sempre uguale. C'era un famoso poeta che recitava un sonetto che è intitolato l'evoluzione e diceva Ieri ho sentito un grillo che cantava tranquillo un fonda a un prato, poco più in là di dietro a uno steccato una scicala rispondeva al trillo. Io pensavo, fra mezzo a tanti guai, c'è solo la natura che non si cambia mai. Ste povere bestiole cantano un inno al sole con la stessa andatura, con le stesse parole di 6.000 anni fa, col solito cri, cri, col solito cra, cra. Dal tempo del diluvio universale tutto è rimasto uguale, dall'aquila alla pecora alla biscia, chi vola, chi s'arrampica, chi striscia, dal sorcio alla mignata alla formica, chi rosica, chi succhia, chi fatica. Ogni bestia si adatta a fare la vita che Dio gli ha stabilita. Invece, l'uomo che non si accontenta sente il bisogno dell'evoluzione e pensa, studia, cerca, scopre, inventa. Ma sul più bello che è arrivato in cima, quando si crede di essere evoluto, vede un pezzetto d'oro e ti saluto, è più bestia di prima. E questo è un monito per noi, ci dobbiamo evolvere ma dobbiamo rimanere sempre con le nostre radici nella campagna. Quindi, dalla campagna nel mondo chiaro e tondo.